In questa puntata, approvata la variazione di bilancio per bonifiche e cultura, la notte di Isabella a Cerretto Guidi, il festival La Luna e Azzurra festeggia 40 anni, torna il Mango Music Fest ad Arezzo. Uno stanziamento aggiuntivo di risorse sull'annualità 2023 di quasi 40 milioni di euro e una modifica in segno negativo per il 2024-2025. Questi i dati alla base della seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025, approvata dal Consiglio regionale. Due le principali voci di spesa, una riguarda la bonifica, compresa quella della strada regionale coinvolta nell'inchiesta sul CHEU, l'altra la cultura. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla regione toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CHEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massacarrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali quindi in particolar modo dei comuni per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. Sì sicuramente vi inizierei la parte delle partecipate c'è un DEF che non tocca il tema di Toscana Strada è un tema molto dibattuto negli ultimi mesi che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà fedi Toscana perché la regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici però ci risulta che ci sia un'altra regione che partecipe delle quote che è la regione Umbria che non sia in questo momento intenzionata a vendere non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana però voglio anche evidenziare da ex presidente della commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CHEU che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione e di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo una variazione di bilancio di 40 milioni di euro considerando che il bilancio complessivo della regione sui 13 miliardi naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante in questo caso come in altri si tratta di una semplice spartizione di risorse in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la regione toscana più volte l'abbiamo denunciato non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali anche dei comuni su cui dare contributi non abbia appunto visione non abbia una programmazione non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse ci sono 15 milioni per rimediare al disastro ambientale che è avvenuto col CHEU con la variante 429 in realtà 15 milioni per chi ha detto lavori sanno benissimo che serve soltanto a mettere una pezza al disastro ma niente di più perché in realtà come abbiamo visto dalle ultime ricerche dovrebbe essere completamente smantellata l'intera strada e dovrebbero essere bonificati interamente tutti i siti in quanto il prodotto, il CHEU a contatto con l'aria e l'acqua rilascia cromoesavalente questa variazione di bilancio e complessivamente nel bilancio 2023 ci sono alcune operazioni che riguardano le società partecipate che costano tanto ai toscani per gestioni evidentemente non soddisfacenti per Firenze e Fiera per esempio sono accantonati quasi 6 milioni e mezzo per la ricapitalizzazione della società in realtà in questi giorni abbiamo letto e noi stessi abbiamo denunciato che oltre alla Corte dei Conti probabilmente può essere in arrivo anche un'indagine della magistratura ordinaria per una situazione che gli stessi soci, alcuni soci della società hanno definito tecnicamente fallita con un passivo di oltre 28 milioni di euro quindi abbiamo raccomandato con ordine del giorno che speriamo la maggioranza voglia votare che la Regione metta questa ulteriore fish solo dopo aver verificato bene la situazione economico patrimoniale della società per quanto riguarda Sici Toscana che è una società finanziaria che dovrebbe entrare nell'orbita di sviluppo toscana anche in questo caso si lega all'operazione Fidi cioè alla finanziaria della Regione che dovrebbe essere dismessa a favore di sviluppo toscana in realtà i tempi di questa operazione non sono rispettati e ci risultano problemi sulla quantificazione economica che la Regione dovrebbe incassare dalla vendita delle azioni infine l'ultima Toscana Strade prima ancora che parta ci costa già 5 milioni è bene che i cittadini toscani lo sappiano 2 milioni di presunto capitale sociale 3 milioni per le prime spese in realtà l'operazione è stata fatta di mandare la delibera alla Corte dei Conti al Garante per la Concorrenza del Mercato secondo noi non va bene perché in realtà è competente il Consiglio regionale ma prima ancora che il Consiglio ne abbia discusso appunto si spendono già 5 milioni Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023 non ci sono aumenti di tasse ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole è un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato le difficoltà a inizio anno erano notevoli tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo è una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati al mare da due anni e mezzo uno schema che vede interventi totalmente disomogene e uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni soprattutto di questi tempi e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali si sono partite importanti nessuno nega che ci sia un impegno sotto questo aspetto però qui la questione è una dobbiamo imparare dal mio modestissimo punto di vista a fare un'attività legislativa che sia organica se si decide che l'obiettivo strategico è sostenere le amministrazioni comunali allora si fanno fondi strutturali finanziati in modo pluriannale che vadano a sostenere e a mettere nelle stesse condizioni comuni naturalmente la questione ambientale è una questione che poi si lega invece a tutt'altro si lega anche a delle inchieste giudiziarie si lega anche qui però a delle responsabilità politiche precise perché quando ci si ritrova a dover intervenire con bonifiche importanti significa che sotto altri aspetti purtroppo non si è adeguatamente vigilato ma devo dire che è l'avvio del finanziamento della cultura che comunque ci consente di raggiungere e guagliare l'anno passato quanto a tempistiche nell'erogazione dei fondi certo vorremmo anticipare questi finanziamenti e vorremmo che fin dall'inizio il bilancio coprisse le spese della cultura la parte del leone la fanno la spesa corrente circa 8 milioni che consentiranno di dar seguito a tutti i bandi di finanziamento per le grandi partite aperte nella regione il teatro, lo spettacolo, tutto il mondo associativo gli enti troveranno soddisfazione e potranno tirare un respiro di sollievo perché le loro attività sono coperte come le avevamo rassicurati fin dall'inizio dell'anno ma adesso con le poste in bilancio diciamo che alla speranza si unisce la certezza di poter operare serenamente sostenendo un sistema che lo diciamo sempre non è un sistema accessorio il mondo della cultura occupa una porzione del PIL toscano ingentissima, fa un lavoro strategico di sostegno dello sviluppo economico del nostro territorio del quale spesso i nostri concittadini non sono del tutto consapevoli Tornano le atmosfere e i misteri della notte di Isabella la rievocazione storica che il primo e due luglio farà tornare Cerreto Guidi indietro nel tempo al 1576 Due giorni di festa a Cerreto Guidi per ricordare l'arrivo dell'amata Isabella la figlia del Gran Duca Cosimo I è un modo per ricordare per ricordare da dove veniamo ma anche per guardare avanti le rievocazioni storiche sono un valore della nostra regione che noi sosteniamo questa è una delle più belle a partire dai suoi costumi dall'ambientazione in uno dei borghi più belli della nostra regione un grazie di cuore all'amministrazione comunale alla Proloquo a tutti coloro i quali si impegnano ogni giorno perché è solo partendo dalle nostre memorie dalle nostre radici che possiamo raccontare chi siamo e cosa vogliamo essere La notte di Isabella è un elemento ormai fondamentale della nostra realtà è un evento straordinario per la ricchezza degli allestimenti dei mercati che vengono ricostruiti degli spettacoli è un elemento in cui le contrade del Palio del Cerro danno tutte se stesse per collaborare per la buona riuscita alla manifestazione quest'anno credo sarà un anno bellissimo dal punto di vista del paese che come una pagina che si gira da un attimo all'altro tornerà al rinascimento si entrerà dalle porte del paese e da lì si vivrà un sogno Fino al 2 luglio l'intero centro storico di San Miniato sarà invaso dal festival del teatro di figura La Luna e Azzurra Una festa bella è San Miniato sarà nel prossimo weekend la capitale toscana del teatro di figura 40 anni non sentirseli perché ripetere andare avanti crescere migliorare aumentare il numero di spettacoli fare in modo che le piazze più belle di San Miniato vivano e rivivano arte storia cultura tutto insieme tutto questo vuol dire libertà tutto questo vuol dire rivivere dopo gli anni terribili della pandemia e far rivivere il nostro territorio Sì ogni sera ci saranno 12 spettacoli diversi anche in contemporanea animazioni giochi c'è un programma apertissimo e per tutta la famiglia quest'anno compiamo 40 anni 40 anni di un festival sono tantissimi è il più longevo dei festival italiani dedicati al teatro di strada al teatro di figura uno specifico che appunto lega all'immaginario infantile la sua profonda identità Dal 4 al 9 luglio torna la grande musica al parco Il Prato di Arezzo con il Mango Music Fest Sì molto importante perché rientra nel filone della valorizzazione delle manifestazioni ora in questo caso per me è anche un po' un conflitto di interesse emotivo perché ricordo un Paco Mengozi giovanissimo nel 2006 quindi era piccolissimo che venne io era assessore alle politiche giovanili del Comune di Arezzo venne a chiedere un piccolo contributo da quel momento l'esplosione di questa manifestazione di questi ragazzi che da Arezzo si sono affacciati al panorama musicale nazionale e internazionale stanno davvero facendo un gran lavoro una bella occasione per la Toscana tutta per Arezzo in particolare il Prato ha sempre un suo perché quindi anche quest'anno non ci deluderà vi aspettiamo numerosissimi 19esma edizione dal 4 al 9 luglio al parco Il Prato ad Arezzo c'è grande emozione e anche soddisfazione per un palinzesto una line up importante diciamo una trasversalità di artisti del panorama musicale italiano dai giovani emergenti che hanno fatto benissimo a Sanremo quindi dai collazio a Rosa Chemical ai grandi nomi invece come Alan Sorrenti Planet Funk Salmo Comacos Baustelle una carrellata di sei giorni con tantissimi concerti tantissimi appuntamenti lo spazio anche per i talk pomeridiani ospiti sul cinema e un po' tutta la città coinvolta nella manifestazione Grazie a tutti Grazie a tutti.